Permettetemi di dire che oggi non mi raccapezzo tanto nella puntata di oggi. Allora, innanzitutto Flavio mi ha detto facciamo la puntata su Lorenz de Graaf. Io quando ho googlato ho visto che c'è una modella che si chiama Lorenz de Graaf. Ho detto ma che fa la puntata sulla modella? Invece no, intendeva Lorenz de Graaf, questo pirata olandese al quale abbiamo dedicato anche una delle nostre perle di curiosità piratesche sulla pagina Facebook che vi invitiamo a seguire, Radio Pirata Podcast, quindi parlavamo di questo pirata. Intendiamo oggi parlare, anche per questo non mi raccapezzo, parliamo di un pirata che era definito il flagello ma addirittura in alcuni momenti della sua vita venne soprannominato il diavolo. Allora io mi chiedo ma sti pirati, tutti sti soprannomi tamarri, c'era Everi che era il re, c'era Barba Nera, c'era il flagello, la regina di Connemara, cioè sembra veramente Er Barba Nera, Er Diavolo, Er Re, sembra veramente uno spaccato di romanità, Er Faina, Er Mangusta, Er Cravattaro, ma allora vedi che quando noi diciamo che la vera pirateria è un po' anche la Roma della commedia italiana, forse forse anche questi soprannomi rientra la cosa. I pirati come noi romani parlano tra loro chiamandosi per nickname e non per nulla. Er Barba Nera. Comunque oggi Flavio ci porterà nel mondo e nella psiche del flagello e detto anche il diavolo e io ho trovato dei riferimenti artistici a pirati diavoli o pirati diabolici della storia dell'arte, ma ne parliamo Flavio dopo la sigla. Eccoci qua allora Flavio, ma questo flagello, ma era, stiamo parlando di una persona, anche l'olonese era chiamato il flagello mi ricordo, quindi anche questo deve essere un tipino mica da ridere questo De Graff. Sì, in effetti è un tipino mica da ridere, in comune con l'olonese ha il fatto che entrambi erano bucanieri, quindi parliamo di quell'epoca della pirateria lì, nella seconda metà del 600. De Graff in realtà è un po' successivo all'olonese, di 30-40 anni, quindi diciamo che non ha avuto il piacere di incontrare il suo predecessore, però posso dire con un certo margine di sicurezza che non sarebbe stato un bell'incontro, perché nonostante il retaggio comune e il soprannome comune, i due non è che avessero molto a che spartire tra di loro, insomma l'olonese era una specie di barbaro sanguinario, mentre De Graff sì, ha fatto anche cose cattive, però non era proprio dello stesso avviso di crudeltà immotivata, insomma. Comunque parliamo un po' di lui, Lawrence De Graff è sicuramente uno dei pirati più importanti della storia, e quindi ovviamente sulle sue vicende si è ricamato proprio senza pudore fin dall'inizio, fin dalla fine del 600 praticamente giravano voci su di lui alimentate da leggende, fantasie, romanticismo di ogni tipo e tutte quelle belle storielle che giravano tra pirati e marinai più o meno smargiassi, insomma, ha avuto, come hai accennato, un sacco di nickname, il più celebre è sicuramente Lorenzillo, come lo chiamavano gli spagnoli, che era un soprannome che sembra quasi carino in confronto a Il Diablo, ma lui era anche noto come il Sieur de Beldran tra i francesi, probabilmente in base al suo luogo di provenienza, e tra gli olandesi i suoi connazionali Gesen van der West, ovvero il flagello d'Occidente, che forse è quello un po' più spaventoso fra i tanti, soprattutto se lo dici in olandese, perché fa più paura. Comunque, di quello che sappiamo noi è che è nato probabilmente attorno al 1653 sicuramente in Olanda, e il suo primo soprannome fu El Griffe, che gli venne affibbiato dagli spagnoli, che generalmente era un soprannome che si beccavano i mulatti. La cosa ci fa pensare che probabilmente lui avesse la carnaggione scura, infatti alcuni storici speculano un po' sul fatto che potesse effettivamente avere genitori o nonno, o un nonno magari africano. Comunque queste sono tutte speculazioni e chiacchiere. Speculazioni a parte, tu meditavi, questa era olandese, che ci azzeccano i spagnoli. Il fatto è che il nostro De Graff appare nelle cronache storiche per la prima volta proprio come schiavo al servizio degli spagnoli, deportato alle Canarie per lavorare in una piantagione. E qui mi chiedo, chissà dove avrà maturato questo astio nei confronti della Spagna? Comunque a un certo punto lui viene liberato, oppure scappò dai propri carcerieri, questo non lo sappiamo. Si sposò lì alle Canarie con una certa Petroniglia de Guzman, o Petronilla de Guzman, non lo so come si dice, come al solito insomma. era il 1674 e come si fa generalmente per le lune di miele, lui se ne andò ai Caraibi con la sua sposa. Oh, bene, bene. Sì, ecco, una luna di miele ai Caraibi sarà una cosa un po' banale forse, però sta di fatto che lui lasciò la sua bella in un porto sicuro dove allestì pian piano una piantagione e si mise subito a fare il pirata. Ah, così? Sì, sì, sì. Praticamente come corsaro al soldo della Francia. Si vede che sto mestiere del pirata lo stuzzicava, comunque aveva dei contatti con i bucanieri che già si occupavano di traffici simili e quindi ci si è buttò pure lui. Comunque de Graff ci aveva già, dimostrava già di avere un animo piuttosto avventuroso e pronto alla battaglia. Comunque pensa che lui ha iniziato la carriera nel 1674 per tutta la durata degli anni 70 del 600. Lui si è fatto le ossa un po' catturando svariate navi e costruendosi una discreta flotta in quel dermal dei Caraibi. il suo sistema lo paragonerei simile a quello di un videogioco perché lui partì con una nave piccolissima, ne catturava una un po' più grande e poi questa la usava per catturarne una ancora più grande e così via. Farmava e cresceva di livello. Sì, esatto, saliva di livello fino a che nel 1679 attacca il boss finale, cioè la Armada de Barlovento, una vera e propria flotta spagnola. e dobbiamo dire che vinse, sconfisse il boss finale perché buttò giù la flotta e catturò tra l'altro la fregata più potente dell'armada che aggiunse alla propria collezione ribattezzando, tra l'altro, Tigre, sempre perché i pirati c'erano questi nomi altisonati. Sì, esatto, la tamarraggine vince sempre. Sì, e De Graff era il più tamaro di tutti. Ecco, se vogliamo trovare il Mario Brega vero dei Bucanieri, sicuramente De Graff. Saltiamo un paio d'anni, arriviamo al 1682 e lui è già famosissimo. Che succede quando un pirata diventa troppo famoso? Che qualcuno inizia a dare la caccia perché infastidiva un po' di persone. Adesso ti racconto questa cosa e poi ti tiro in ballo perché ho una domanda da farti. Tu pensa che c'era un ex famigerato bucaniere ovvero Henry Morgan che abbiamo già citato ogni tanto e a cui bisognerà dedicare una puntata prima o poi. Esatto. Aveva un passato come bucaniere ma sappiamo che a un certo punto della carriera lui passò dall'altra parte della barricata e nel 1682 lui era già governatore della Giamaica e questo De Graff che andava in giro con la nave Tigre a fare quello che gli pareva non è che gli estesse particolarmente simpatica infatti allestì una fregata e la mandò a caccia di pirati in generale ma in particolare proprio col mandato di catturare De Graff. Gli spagnoli che erano quelli che in realtà subivano le maggiori angherie dal nostro amico Lawrence decisero di approfittarne visto che l'Inghilterra gli manda conso di cacciare di pirati mandiamogli anche noi visto che questo ci ha affossato l'armada del Barlovento combina di cotte e di crude magari è la volta buona che ce ne liberiamo quindi che fecero? Anche gli spagnoli allestirono delle navi di cacciatori di pirati e le mandarono a caccia di De Graff e a un certo punto mentre veleggiava attorno a Cuba il nostro Lawrence venne a sapere che sia l'Inghilterra che la Spagna gli davano la caccia e qui io ti chiedo una cosa Danilo tu che faresti se sapessi che le due più grandi potenze del mondo vogliono farti secco mi nascondo da qualche parte per qualche annetto cambio nome alto che tigre non mi semplichi un John Smith e mi nascondo almeno evito cannonate cose ecco tu mi hai dato una risposta ragionevole De Graff invece cosa ha fatto? già che dico invece fa capire che la sua risposta non fu proprio delle più ragionevoli comunque lui decise che non si voleva nascondere non voleva aspettare che lo trovassero piuttosto decise ah Spagna e Inghilterra mi attaccano io li attacco per primo mi allestì tutta la sua flotta rintracciò la flotta spagnola che gli dava la caccia e li attaccò per primo e tra l'altro li sconfisse anche molto pesantemente e qui il nostro De Graff dimostra di essere un po' diverso da l'olonese che hai citato tu perché dopo aver massacrato in battaglia in quantità innumerevole dei soldati spagnoli vide che il capitano della flotta nemica si arrese e lui cessò immediatamente il fuoco il capitano di questa flotta che guidava una nave chiamata princesa era gravemente ferito De Graff decise di risparmiarlo anzi di lasciarlo a terra con un medico e anche un servo ad aiutarlo probabilmente l'olonese l'avrebbe sbudellato che ci avrebbe giocato con le viscere immagini invece no De Graff era uno che non infieriva sul nemico sconfitto comunque però era uno che gli piaceva collezionare navi infatti questa princesa se la prese lui entrò a far parte della sua della sua schiera si prese il bottino che trasportava era una grossa quantità d'argento perché erano le paghe di vari soldati sparsi per Sud America e questa princesa che era una nave di tutto rispetto divenne la sua nuova ammiraglia che ribattezzò con il poco altisonante nome di Francesca magari era una che gli piaceva esatto può essere fai colpo io ho battezzato una nave in tuo nome capito vabbè queste sono altre speculazioni comunque a questo punto De Graff era il pirata più temuto dei Caraibi e a quanto pare nessuno poteva neanche azzardarsi a dargli la caccia potenze coloniali incluse io mi aspetto anche che tu ci racconterai di quando De Graff è sopravvissuto nella palude del Caimano perché come verdone visto il tono di questo personaggio mi sa che veramente anche lui è troppo forte però io invece voglio citarti il primo scusa se ti interrompo ma volevo appunto apportare un'altra descrizione di un personaggio di un pirata empio e brutale che però appartiene fortunatamente al regno della fantasia e voglio citare un film del 1963 che sono andato a ripescare per la regia di Roberto Mauri dal titolo Il Pirata del Diavolo ovviamente possiamo capire che ci riferiamo alla cattiveria del pirata in questione non capisco perché non il pirata diavolo cioè già appunto come epiteto il pirata del diavolo comunque un'appartenenza comunque a un regno luciferino questo film d'avventura d'amore di cappa e di spada vede attori come Richard Harrison Walter Brandi e Anna Maria Ubaldi che magari non dicono tanto sono attori del passato Walter Brandi comunque un attore italiano che ha anche interpretato il ruolo di Dracula nella sua carriera però sostanzialmente di cosa stiamo parlando allora è un film che tratta una lotta fra i protagonisti che fanno parte della Repubblica di Venezia e i pirati turchi i pirati turchi che compiono ogni genere di scorribanda strage e terrorizzano la popolazione finché non si trovano a rapire il nostro protagonista Marco Trevisan il quale viene appunto rapito da questo pirata del diavolo questo pirata turco di nome Rabenech Rabenech è il nostro villain della storia e il protagonista Marco Trevisan dovrà fare di tutto per liberarsi dalla prigionia e tornare dall'amata Velia dopo ovviamente avere sconfitto Rabenech quindi c'è l'amore c'è l'avventura mozzafiato eccetera questo film Carlo Flavio inizia con dei titoli di testa tipo Star Wars però fatti un po' peggio cioè un pochino per i mezzi dell'epoca insomma testuale è comunque dove ci viene raccontata appunto la scorribanda dei predoni turchi e viene già nei titoli di testa già nell'intro viene presentato Rabenech il pirata del diavolo e te lo fanno proprio vedere tipo con una fototessera cioè non è che dici lasciano un po' di anticipazione con la suspense ti fanno intuire chi sarà questo cattivo te lo presentano poco poco no già nei primi secondi del film fototessera di Rabenech e ti dicono questo è Rabenech questo è il pirata cattivo ma come introducimelo con un po' di mistero con un po' di fascino invece no però di sicuro questo Rabenech ha una fama appunto mefistofelica e già il narratore non diciamo non ci va piano con le parole perché lo definisce la belva setata di sangue che ignora la parola pietà quindi quasi più più che De Graff quasi più olonese in questa descrizione però sicuramente un pirata diavolo allora quando io sono andato avanti con il film io mi aspettavo che Rabenech fosse questo essere veramente assetato di sangue quasi più belva che uomo in realtà è un villain molto raffinato allora fai conto che lui appunto rapisce questo Marco Trevisan che è il nostro protagonista e il braccio destro di Rabenech di nome Mahmood ma non è il cantante gli dice uccidi Marco Trevisan cioè ce l'abbiamo l'abbiamo rapito uccidiamolo e invece Rabenech dice no uccidere un nemico è una cosa brutale ignorante è assai più raffinato torturarlo quindi lui cioè io mi aspettavo ripetere questa cosa anche perché dalla locandina vedi questo pirata che sembra una sorta di rambo con il turbante con sta scimitarra retta da questo braccione con due bicipiti così ti aspettavi appunto questo questo gorilla invece è una sorta di palpatine è un villain veramente raffinato e molto sadico pensa che lui poi faccia a faccia con il suo prigioniero Marco Trevisan gli dice ti dobbiamo mostrare tuo padre perché c'è stata una battaglia fra i buoni e i cattivi il padre di Marco appunto ha avuto la peggio e Rabenech dice ti dobbiamo mostrare tuo padre so che non vedi l'ora di rivederlo beh possiamo farti vedere solo la testa perché il resto del corpo non lo abbiamo trovato cioè vedi è proprio un sadismo è un sadismo veramente assurdo alla fine c'è il duello finale vi spoiler un film del 1963 direi che mi potete perdonare apprezzabile io eccomi apprezzo molto diciamo quei duelli con le spade fatti dai maestri d'armi di una volta dove veramente inquadravi due attori che si prendevano spadate cioè quello era cioè c'era poca coreografia macchina da presa effetti speciali prendevi due gli insegnavi appunto sì una coreografia che però era praticamente prendersi allegnate con ste spade finte e Rabenech muore caro Flavio però muore in maniera strana cioè viene infilzato dalla spada del buono il nostro eroe trova la ragazza anche lei libera si trovano si baciano davanti alla finestra però Rabenech intanto è fuori scena che sta morendo ma non è che lo vediamo morire quindi secondo me non è nemmeno poi così morto quindi secondo me Rabenech tornerà c'è spazio per un sequel esatto hanno lasciato lo spazio per un sequel anche diciamo a decenni di distanza perché no potrebbe accadere ti dico solo in conclusione che questo Rabenech era a causa di questo suo sicuramente era un nemico temuto per questo suo carattere però aveva iniziato a causa di questa sua crescente sete di sangue a smettere di essere un buon leader perché i suoi stessi uomini alla fine erano preoccupati perché Rabenech aveva smesso di accettare consigli ormai prendeva tutte decisioni con la testa sua ed erano pressoché decisioni empie e malvagie come questa qua e quindi Rabenech è il primo da questo film del 1963 pirata che ha meritato il soprannome di diavolo ma nella cinematografia beh invece a questo punto direi di tornare a periodo successivo nei Caraibi al nostro amico Lorenz de Graff lo abbiamo lasciato al massimo della sua potenza tanto è vero che le potenze coloniali avevano un certo timore a dargli contro visto quello che era successo ultimamente e questo è anche il periodo in cui cosa fai diciamo sedimenti il tuo potere forgiando delle alleanze e anche delle rivalità ovviamente non con altre potenze coloniali perché è roba etta da poco per uno come Graff piuttosto lui celebra alcuni fruttuosi sodalizi con altri bucanieri specialmente olandesi possiamo citare Yankee Willems detto anche Jan Willems ma soprattutto quello che divenne praticamente il suo braccio destro anche se erano di pari grado Michel Andriessun con la segreta speranza che si pronunci così e poi nacque anche una fortissima rivalità con un altro bucaniere che era Nicolas Van Horn rivalità che segnerà le vite di entrambi molto profondamente in particolare quella di Van Horn per motivi che diremo voi comunque The Graff e questo Andriessun tentarono di saccheggiare alcune navi cargo nella baia di Honduras erano delle navi che erano vuote erano in attesa di essere riempite giustamente The Graff voleva aspettare che si riempissero per poterle svuotare lui il problema è che arrivò questo altro bucaniere Van Horn e decise di prendersene vuote così gli andava ad avere due navi cargo e gliele rubò praticamente a The Graff e non solo gli rubò una cosa a The Graff che io non avrei fatto comunque ma ebbe pure la faccia tosta poi di andare da lui e dirgli di unirsi e mettersi insieme e creare una flotta tutti insieme The Graff ovviamente gli rispose come avrebbe fatto Mario Brega immagino ecco il fatto è che tutti questi pirati da soli avevano capacità belliche imponenti in mare ma piuttosto limitate perché loro erano molto forti a combattere contro le navi e anche le flotte spagnole soprattutto perché queste erano molto spaventate dai loro modi di fare perché non seguivano alcun tipo di logica bellica conosciuta da sti soldati piuttosto gli sembrava di combattere dei selvaggi spesso mescolati con nativi americani e con schiavi africani e quindi si ritrovavano davanti dei nemici che loro non riuscivano proprio a capire e soprattutto che si buttavano alla battaglia incuranti del pericolo al limite della follia praticamente se pensi alla reazione di De Graff quando ha saputo che Inghilterra e Spagna lo cercavano ti rendi conto un po' l'ideale bellico del pirata medio di quell'epoca lì però il sogno che tutti questi bucanieri avevano un po' in mente era quello di eguagliare proprio Harry Morgan o lo stesso olonese e mettersi a saccheggiare intere città perché quello era dove stavano i soldi grossi insomma quindi per questo è la fine che Van Horn nonostante gli sgambetti con De Graff cercò un po' di unire le flotte quello che riuscì a farlo fu un altro pirata boganiere un francese tale Michel de Gramont che riuscì a mettere insieme le flotte di De Graff di Van Horn e di altri bucanieri tutti più importanti dell'epoca e diresse un storico attacco alla città di Veracruz alla testa di ben 1300 pirati se te pensi che un nave con 80 pirati generalmente ne tirava giù una con 600 soldati spagnoli puoi immaginare 1300 pirati liberi e selvaggi in una città che potevano fare di fatti il sacco di Veracruz della primavera del 1683 fu un vero e proprio massacro fu all'insegna della tortura dello stupro della violenza smisurata insomma fu un crimine di guerra in un'epoca in cui non esisteva ancora il concetto dei crimini di guerra e qui si ci ricorda le famose imprese dell'olonese insomma e questo sacco tra l'altro proseguì per giorni e giorni la violenza che era praticamente insensata e colpì anche molto The Graf che a quanto pare non apprezzava e anzi rigettava questo comportamento dal punto di vista dei pirati occupanti e lo portò tra l'altro a un conflitto risolutivo con Van Horn questo suo rivale con cui aveva unito le forze The Graf criticava molto i modi animaleschi di Van Horn e questa sua inclinazione a torturare i prigionieri che secondo The Graf avrebbero dovuto essere trattati umanamente comunque c'era poi una questione relativa alla divisione del bottino su cui i due non riuscivano ad accordarsi e la questione venne risolta tramite tradizione piratesca con un bel duello sulla spiaggia ecco sì che immaginavo no dicevo come nel film anche qua tutto a spadate sì a spadate e spistolettate comunque The Graf vinse il duello infliggendo una ferita al polso di Van Horn la ferita non è particolarmente grave in quel momento però parlando di un'epoca che come sappiamo bene dopo il famoso episodio sui medici di bordo parliamo di un'epoca in cui il vaccino contro il tetano non era stato inventato per non parlare del concetto di igiene quindi sta ferita anche se non era grave si infettò e Van Horn morì a causa dell'infezione nel giro di un paio di settimane comunque arriviamo alla fine di questa brutta avventura di Veracruz brutta ma molto fruttuosa perché i pirati se ne andarono da lì straricchi e molto felici dell'esito di quella brutta vicenda comunque arriviamo all'inverno del 1683 e The Graf torna a navigare per conto suo e visto che l'idea di conquistare qualche città evidentemente lo aveva sfiziato decise lui di prendere in ostaggio l'intera Cartagena con solamente sei navi e la tenne per quasi un mese chiusa in un blocco navale che succede che il governatore locale Juan de Pando e Strada immagino si chiama si pronuncia non è che c'è un blocco navale c'è un pirata che t'assedia la città la prende in ostaggio non dici uno prende in ostaggio non lo so la bella del film che hai citato te no lui prende in ostaggio l'intera città ecco non è che stava lì molto felice di avere la città ostaggio di un pirata quindi armò tre fascelli pesantemente e li mandò contro The Graff tu ora un po' la storia di The Graff la stiamo sviscerando immagini che non è proprio la mossa migliore da fare no ma non mi spiegare quando The Graff vede qualcuno che gli dà la caccia e dice chi te ci ha mannato dirla in gergo pilatesco sì sì di fatti chi va a caccia di The Graff generalmente finisce per essere la preda lui la battaglia si svolse alla vigilia di Natale dell'83 e The Graff praticamente devastò queste tre navi che gli avevano mandato contro parliamo di 800 spagnoli uccisi in battaglia contro 20 pirati uccisi quindi insomma un bilancio assurdo e di queste tre navi inviate una finì affondata mentre le altre due diventarono le navi bandiera della flotta di The Graff in particolare la San Francisco che fu ribattezzata Fortune e più tardi Neptune sempre perché gli piacevano i nomi altisonanti proprio Nettuno diventare l'ammiraglia di The Graff mentre l'altra nave che si chiamava Paz e venne ribattezzata Mutin era mutinato insomma venne affidata a Andries Sun l'altro capitano che continuava a seguire The Graff comunque gli spagnoli superstiti vennero rilasciati era Natale quindi si vede che si sentiva particolarmente buono più buoni vennero rilasciati con una lettera un messaggio di The Graff per il governatore in cui lo ringraziava dei regali di Natale ricevuti quindi diciamo che The Graff non solo era inarrestabile ma aveva anche un certo senso dell'ironia se vogliamo pensa che ecco arriviamo qui a questo punto in cui nel 1684 gli spagnoli decidono di offrirgli un perdono reale un'amnistia eppure una lettera di marca praticamente gli portavano anche i cani fuori pure per farlo smettere di assaltare le proprie navi e pensa che il messaggio lo fecero portare a una nave inglese perché sapevano che se mandavano una nave spagnola quella finiva male e The Graff invitò gli inglesi sulle proprie navi a fare festa e ignorò completamente il messaggio degli spagnoli dicendo che tanto quella era gente che non rispettava i patti quindi inutile starli a sentire per ora storia molto interessante tra l'altro mi viene quasi da dire a Natale noi come Radio Pirata dovremo più che altro festeggiare questo evento più che Natale in sé con Babbo Natale oddio è vero che ci piacciono i pirati ma festeggiare 800 persone ammassate in battaglia forse 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 l'ho proprio formulata male questa frase effettivamente potremmo attenerci invece al Natale con Babbo Natale gli Elfi forse è meglio rimanere quello abbiamo comunque dalla puntata dei Corsari la grande navigazione di Frobisher che è un po' considerato il nostro Natale capodanno piratesco risentitevi la puntata su Corsari forse meglio quello ritiro ritiro l'idea più da Grinch questa proposta in un certo senso tra l'altro della storia che mi dici mi sorprende che De Graaf vada anche contro tutte le superstizioni perché di solito una superstizione marinaresca i marinai sono assolutamente superstiziosi è quella di non cambiare mai il nome al Natante all'imbarcazione invece lui prendeva e cambiava i nomi eccetera ma poi prendere una nave e chiamarla ammutinamento e darla a un altro tizio quello ho detto ma perché a papà me ha la nave ammutinamento scusa la prossima come la chiamiamo affogata cioè ma capitano però con De Graaf non si poteva discutere ma allora ora ti faccio magari quando qualcuno ha detto ma Capirano non si dovrebbe fare questa cosa porta male ma che me frega a me porta male io so pirata così pure la iella sfidava lui allora abbiamo detto che oggi il filo conduttore che ho voluto trovare era quello del pirata e del diavolo allo stesso tempo e beh allora come non parlare di una grande opera pop di un grande manga e poi anime che abbiamo citato altre volte nell'universo narrativo del quale ci sono dei frutti magici caro Flavio che consentono alle persone che li assaggiano di acquisire poteri molto particolari sono frutti rari la cui origine lascia tutti abbastanza sbalorditi all'interno di quell'universo narrativo ma da dove vengono ma sono frutti maledetti ma provengono da un altro mondo da un'altra dimensione ma cosa sono? di sicuro sono frutti ricercatissimi al punto che nel mercato nero possono essere venduti addirittura per miliardi di berri questa è la valuta di questo universo narrativo e addirittura le persone che li hanno mangiati hanno acquisito dei poteri particolari sono venduti poi a loro volta come schiavi che hanno un certo valore insomma beh di cosa stiamo parlando? stiamo parlando dei frutti del diavolo di One Piece che in Italia sono stati tradotti frutti del mare infatti tu magari mi potevi dire ma che c'entra il diavolo sono i frutti del mare di One Piece no quello è l'adattamento del doppiaggio italiano che fa un po' pensare a una pizza con le cozze con i muscoli e invece perde un po' la magia ma perché lo sappiamo che le associazioni italiane che gestiscono molti anche prodotti che vanno su Mediaset ci tengono a far sì che i bambini non vengano traviati che chiami una roba frutto del diavolo no devi far vedere cose belle per i bambini tipo i reality show che poi ma allora ma fammi frutto del diavolo comunque questi frutti caro Flavio sono frutti che hanno questa spirale sia sulla buccia che all'interno al sapore risultano disgustosi però appunto sono frutti che ti donano dei poteri dei poteri particolari dei poteri di qualsiasi tipo puoi cambiare tu fisicamente puoi avere dei poteri che ti permettono anche di alterare il mondo intorno a te in un certo senso quindi veramente tu ottieni un vero proprio dono magico che consente di avere dei potenziamenti e delle potenzialità molto particolari però la caratteristica del frutto del diavolo è anche che ti crea una debolezza cioè se tu mangi questo frutto del diavolo che appunto fra i pirati dell'universo di One Piece è veramente un motore che consente di diventare inumani allo stesso tempo però hai una grande criptonite che è quella proprio dell'acqua del mare cioè diventi odiato dal mare quindi se tu ti trovi in acqua non per forza soltanto in mare ma in uno specchio d'acqua ovviamente esclusa la pioggia la doccia cioè l'acqua che scorre eccetera però immagina appunto uno specchio d'acqua tu perdi le tue forze proprio perdi non solo non puoi usare i poteri ma ti indebolisci e ovviamente non hai la possibilità di nuotare quindi vai incontro al rischio di annegamento perché ti trovi sott'acqua non hai più forze oltre a non avere i poteri e rischi di annegare questa cosa mi fa molto pensare a come in realtà dalla fantasia di Oda forse nella fantasia di Oda possiamo riscontrare un riferimento reale perché noi l'abbiamo detto mille volte i lupi di mare di cui parliamo non sapevano nuotare cioè nuotare era una cosa che non faceva parte del loro bagaglio di esperienza loro sapevano navigare ma una volta finiti in acqua i veri pirati della storia avrebbero fatto la fine di qualsiasi possessore di frutto del diavolo di One Piece e infatti da qui l'abbiamo sempre detto tutti i vari miti che invitano a stare cauti a non cadere fuori bordo come quello di Davy Jones che appunto è il grande spauracchio di cosa accade a chi finisce fuori bordo e rischia di finire poi sul fondo del mare altre caratteristiche di chi acquisisce a parte che non puoi mangiare più frutti sicuramente De Graff avrebbe detto io una decina mi faccio una macedonia no non bisogna essere ambiziosi si può mangiare un solo frutto del diavolo nella propria vita altrimenti va incontro all'autodistruzione l'unico che è riuscito ad acquisire il potere di più frutti è il personaggio di Teach quindi il barba nera dello One Piece che anche qui anche barba nera ovunque lo metti comunque è sempre il personaggio un po' più alfa della situazione più che altro se mangi i frutti del diavolo hai una sorta di emarginazione sociale cioè all'interno del consorzio umano vieni un po' visto come lo strambo il mostro e quindi lo scherzo della natura e quindi in un certo senso evitato quindi c'è questa riflessione dell'autore sull'essere sì particolari ma l'essere anche non standard che un po' ti tiene relegato dalla società e anche questa è una cosa molto piratesca se vogliamo ovviamente attenzione anche perché voi potete rischiare di mangiare un frutto del diavolo e dire vabbè che me frega che non mi farò più il bagno vabbè tanto al massimo sono andato alla dispo in vita mia e invece potete anche trovare un potere inutile o che vi trasforma vi indebolisce quindi dice ora sono nemico del mare e il potere di questo frutto era una roba stupidissima io Flavio non so te io amo il mare non rinuncerei mai al mare però se il potere fosse arricchire il portafoglio con lo schiocco delle dita forse il mare non mi mancherebbe più così grande me lo vedo in tv non lo so non lo so dire un potere che si confa un pirata è vero è vero diventerei pirata pensavo che tu avresti chiesto un altro tipo di potere ci sono alcuni personaggi One Piece che cercano spasmodicamente un frutto del diavolo capace di renderli invisibili perché hanno tendenze voyeuristiche per così dire pensavo ti interessasse qualcosa del genere ora che mi ci fai pensare potrebbe essere un dilemma sul quale riflettere allora mentre tu vai avanti con la storia io rifletto se forse valeva la pena più che altro l'invisibilità ok ok dunque siamo arrivati al 1685 con il nostro prode De Graaf e che succede nel 1685 che quel bucaniere Michel de Gramon che aveva già guidato l'invasione di Veracruz decide di chiamare nuovamente a raccolta tutti i pirati bucanieri dei Caraibi per un'impresa che doveva essere sulla carta ricca quanto la presa di Veracruz ovvero il sacco di Campece sempre nella segreta speranza che si produce così comunque De Graaf si unì nuovamente agli altri bucanieri i suoi compari Vanorn era morto quindi c'era manco più il rivale assieme a loro decise di partire alla conquista di questa cittadina spagnola nel golfo del Messico l'impresa non ebbe il successo sperato perché i pirati furono trattenuti da una battaglia più lunga del previsto prima di arrivare in città e i cittadini di Campece riuscirono appunto ad abbandonare la colonia portandosi dietro buona parte dei propri averi i pirati comunque non si arresero alla mala sorte forti delle esperienze torturatorie già esercitate in precedenza decisero di tenere la città e la tennero per più di due mesi rovistarono ovunque e qualora trovavano dei cittadini non nascosti bene li torturavano nei modi più disparati ancora una volta la violenza fu esasperata partendo non so dallo stupro all'esecuzione sommaria e De Graaf nuovamente si ribellò a tali sevizie io immagino che lui effettivamente non fosse un grande fan della tortura o della violenza gratuita però ogni volta che c'era un saccheggio da fare lui ci si buttava quindi etica pirata comunque st'impresa di Campece in generale fu abbastanza un fiasco e fu anche un esercizio di brutalità piuttosto inutile economicamente parlando anche per dei bucanieri il massimo che riuscirono a ottenere fu un riscatto per il rilascio di alcuni cittadini spagnoli piuttosto in vista che presero in ostaggio proprio sul finire dell'occupazione stavo pensando a come il buon Barbero che è il nostro sogno segreto è un po' averlo ospite nel nostro pubblico commenterebbe tutte queste stragi queste guerre penserebbe già appassionatissimo da questa cosa forse lui forse lui mi appoggerebbe l'idea del natale de graffiano un po' più violento però arriviamo alla vera al vero riferimento che nell'arte si trova al pirata diavolo di cui stiamo parlando oggi quindi a Lawrence de Graff perché Lawrence de Graff appare non in un libro ma in ben tre libri addirittura di un autore nostrano di un autore italiano e stiamo parlando della trilogia dei pirati di Valerio Evangelisti ora su questa trilogia dei pirati sicuramente meriterà sicuramente meriterà come tanti altri temi che diciamo meriteranno una puntata meriteranno delle puntate a parte noi in realtà stavamo anche cercando di contattare proprio evangelisti magari piuttosto per fare con lui una puntata un'intervista eccetera e non non è morta la speranza però intanto possiamo parlare un po' del De Graff di Evangelisti innanzitutto piccola premessa Evangelisti si trova a scrivere una trilogia di romanzi a tema piratesco con protagonisti bucanieri e predoni dopo aver pubblicato un racconto a tema piratesco in una raccolta di racconti dal titolo I fratelli della costa il racconto che fu ebbe così tanto successo che lo spinse a espandere la storia che aveva iniziato in questa short story per creare invece proprio un universo narrativo suo ma con le fondamenta nella storia infatti uno dei personaggi realmente esistiti che fa un po' d'accollante in tutti e tre i libri è proprio il personaggio di Lorenzio che come avrete capito da come Flavio ha descritto prima è uno dei nickname del nostro Lorenz De Graff che appare quindi in questi tre libri appare quindi in Tortuga Vera Cruz e Cartagena di Valerio Evangelisti in Tortuga siamo nel 1685 e vediamo che una nave pirata di nome Neptune appunto citata da Flavio Pocanzi assalta un galeone spagnolo e viene fatta una strage finché i pochi superstiti di fronte al capo dei pirati appunto Lorenzio appunto Lorenz De Graff vengono messi di fronte a una scelta e già potete immaginarvelo perché abbiamo parlato di come funzionava il reclutamento dei pirati sia nella storia che anche nel pop come in Capitaruncino della Disney anche faceva così della serie o vi arruolate o morite cioè questa è la vostra scelta sostanzialmente ed ecco che fra i protagonisti costretti a un arruolamento forzato nella nave di Lorenzio troviamo anche il personaggio di Rocherio che è il protagonista appunto delle vicende di Tortuga questo è l'incipit che vediamo quindi un grande assalto tra l'altro allora in Evangelisti noi troviamo veramente delle riflessioni sì molti dicono prende quel senso di avventura piratesco del Salgari e ce lo riregala nuovamente però va anche oltre lui cioè fa proprio delle riflessioni non so se concordi politiche sulla politica sulla natura umana cioè questi pirati incarnano veramente uno spirito di rivoluzione nei confronti del mondo aristocratico che soffoca determinate libertà che loro invece vogliono acquisire e poi c'è tutta una riflessione sulla natura umana brutale selvaggia cioè non abbiamo sconti nella descrizione delle violenze c'è un passaggio di Tortuga dove c'è questo scambio con Lorenzio dove gli viene detto capitano De Graff vi sto proponendo una speranza concreta rendite schiavi entrate sicure voi non vi state battendo per questo e De Graff dice niente affatto mi batto per il contrario soldi da spendere subito morte dietro dietro l'angolo gustare tutti i piaceri della vita non so come cadrò però avrò di sicuro la sciabola in mano e questo effettivamente può essere quasi una frase che possiamo aspettarci abbia detto il vero De Graff in un certo senso visto appunto come ci viene descritto da Flavio io guarda il De Graff di Evangelisti lo so molto calzante rispetto alla figura storica perché è un personaggio molto avventato e pronto alla rissa e anche sicuro di sé un po' tronfio un po' così effettivamente è così poi per quanto riguarda il discorso politico sono molto d'accordo ma io credo che il sottotesto politico di quei romanzi lì sia esplicitato visto che se non ricordo male c'è una scena non mi ricordo in quale dei tre romanzi in cui i pirati danno battaglia al grido abbasso la corona arriva al libero mercato quindi esatto esatto sì 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 quindi sì più che appunto più che anarcoide è quasi più quello effettivamente il motto che è sulla bocca dei pirati sarebbe interessante parlare con lui anche di questo speriamo di avere un giorno occasione il secondo romanzo dico brevemente invece è un prequel ve lo cito perché è interessante perché abbiamo un capitano che si chiama De Grammont attenzione e che sta è in contrasto con un altro capitano pirata Lorenzio De Graff sembra che fra i due c'è una tensione tale che lo scontro sembra veramente essere inevitabile però essendo pirati sanno anche pragmaticamente mettere da parte le ostilità quando c'è da mettere le mani sulla pecunia sui sesterzi perché tutti i pirati si stanno accordando per un colpaccio per quale è meglio un attimo deporre le armi e le ostilità e unirsi in nome di un bene più grande e in questo caso è proprio il saccheggio di Veracruz quindi ragazzi come vedete storia finzione e nessuno sconto nella descrizione di momenti di guerra di battaglia e di violenza sono quello che troverete nelle pagine del buon evangelisti che vi consigliamo sì sì tra l'altro The Graf non solo fa da collante in quei romanzi ma incarna anche un po' proprio lo spirito dei bucanieri secondo evangelisti ovvero questa questa rivoluzione borghese tra virgolette che porta sposta l'interesse dall'aristocrazia a appunto il libero mercato la libera impresa e che nel finale senza spoilerare nulla di particolare nella trama proprio The Graf porterà verso gli Stati Uniti in maniera molto metaforica insomma comunque lasciamo da parte il discorso un po' sulla trilogia dei pirati perché vale la pena dedicarci proprio una puntata a sé parliamo invece del The Graf storico perché ecco in Veracruz di Evangelisti è citato il sacco di Veracruz in Tortuga è citato la presa di Campece che come abbiamo visto non fu particolarmente fruttuosa per i Bocanieri e nella storia vera invece arriviamo al 1686 e alla prima vera disfatta di The Graf che anche se vogliamo fu una disfatta piuttosto minore lui venne colto di sorpresa da due imponenti galeoni spagnoli che lo costrinsero a gettare in mare il proprio carico per fuggire forti di questa piccola vittoria gli spagnoli decisero di dare un colpo aggiuntivo saccheggiando la piantagione che The Graf possedeva a Santo Domingo che nel frattempo era diventata un po' la sua base operativa se vogliamo solo che The Graf ricevuto lo schiaffo rispose con il suo perché loro gli saccheggiarono la piantagione lui decise di mettere a ferro e fuoco un'intera colonia spagnola che si chiamava Tiosuco suppongo lui andò proprio dritto così bom si nel senso tu mi saccheggi le piantagioni e io ti distruggo una città mi sembra una cosa equa comunque al suo ritorno da questo saccheggio incrociò una nave spagnola di passaggio e giustamente decise di attaccarla il problema è che la nave di The Graf evidentemente non aveva una manutenzione particolarmente buona perché non resse all'inseguimento e affondò nel mentre The Graf comunque non è che affonda la nave ma che me frega a me lui si prese la scialuppa di salvataggio i suoi uomini e assaltò il vascello spagnolo dalla scialuppa di salvataggio e lo conquistò pure immaginate proprio che personaggio che poteva essere comunque diciamo che questa possiamo chiamarla un po' la parabola discendente di The Graf visto che non sembra conquistare gran cose sembra che un po' inizia ad avere qualche colpo di sfortuna ha perso il suo swing sai molto spesso i pirati hanno queste grandi exploa e poi parabole discendenti disastrose ma The Graf non fu tra questi lo ritroviamo anzi nel 1687 in una battaglia a largo della costa meridionale di Cuba sempre con sugli spagnoli una battaglia che vinse per poi tornare nella sua base operativa a Santo Domingo che tra l'altro difese da alcune invasioni e lo troviamo due anni dopo invece a fare il pirata nuovamente a largo della Giamaica e delle isole Cayman insomma chiama la parabola discendente The Graf continua a darsi da fare a collezionare qualche bottino non paragonabili magari a quelli presi a Vera Cruz però comunque nessuno sembrava in grado di fermarlo pure che gli affondava la nave questo te inseguiva con una scioluppa non so come lo potevi fermare a questo qua almeno questo fino al 1691 quando subì stavolta una pesante sconfitta con una flotta spagnola che era almeno tre volte più grande della sua e quindi magari qua è esagerato comunque indomito pirata o no anche lui iniziava ad avere un'età soprattutto per uno che ha vissuto una vita come la sua infatti già tanto che fosse sopravvissuto in un certo senso io a questo punto faccio il mio ultimo intermezzo se consenti e ti cito altri due film dove abbiamo il tema del pirata diavolo come avrete visto non mi sono basato su pirati diavoli nel senso di pirati del fantasy piratesco che sono mezzi mostri mezzi immortali e quant'altro ma proprio pirati definiti diavolo per la loro fama allora prima abbiamo trattato un film del 1963 ma c'è un film del 1964 inglese intitolato The Devil Ship Pirate anche qua ci fa capire insomma che sia una ciurma con cui è meglio non avere a che fare di Don Sharp alla regia con Christopher Lee io lì mi sono esaltato subito appena detto cavolo Christopher Lee che fa il pirata cattivo è perfetto non vedo l'ora di vederlo diciamo che la cosa più spaventosa però in questa interpretazione forse è la pettinatura che hanno dato a Christopher Lee per ricreare la pettinatura cinquecentesca stiamo parlando di una vascello di pirati che proviene dalla è una sorta di vascello che si stacca dall'invincibile armada che noi abbiamo trattato già precedentemente nelle puntate sui corsari e inizia a darsi alla pirateria quindi questa scheggia incontrollata questa mina vagante che deriva dall'armada invintibile e che inizia in realtà a terrorizzare le coste inglesi quindi Christopher Lee Don Sharp che come regista collaborerà poi ancora con Christopher Lee e altro titolo degli anni sessanta che possiamo citare quando però sono andato avanti a studiare questo tema ho detto ma che stava succedendo negli anni sessanta perché abbiamo nel 1965 quindi ancora un anno dopo Giant of the Evil Island cioè era questa mania sicuramente del cappa e spada del piratesco però tutti questi personaggi luciferini nel giro di pochi anni gli anni sessanta un'ansia tremenda in realtà parliamo di un film il cui titolo originale è il mistero dell'isola maledetta e comunque non è un titolo che in originale attenua di molto il concetto della regia di Piero Pierotti che fra gli altri è stato regista di altri film d'avventura o in costume che andavano molto in quell'epoca ad esempio Zorro il ribelle da cui viene la famosa battuta a Zorro no forse no forse quello è un altro film quello è un film dei pirati sicuramente esatto allora qui abbiamo fra i protagonisti Peter Lupus che era un attore culturista come andava poi di moda all'epoca quindi questi attori scelti anche perché erano culturisti perché avevano questa grande prestanza Lupus comunque ha lavorato molto anche in film ben più noti a livello internazionale qui il pirata cattivo allora se studi la versione inglese dove è appunto chiamato Evil Island il pirata cattivo è chiamato Moloch quindi veramente un riferimento a qualcosa di demoniaco perché Moloch era questo demone che è citato anche nella Bibbia dove ha la passione di divorare i bambini fra le altre cose quindi proprio un demone vero e proprio nella versione italiana sembra chiamarsi Malik e allora questo film sostanzialmente ha una sorta di escamotage che poi vediamo anche in il buono il brutto e il cattivo perché c'è questo personaggio morente che dà delle informazioni al protagonista e che scatena un po' tutti gli eventi qua c'è un capitano di nome capitano Navarro che è morente sulla sua imbarcazione che viene intercettata dal protagonista che si chiama Pedro Valverde e questo capitano Navarro prima di morire spiega appunto che dietro la sua morte c'è questo pirata ferocissimo di nome Malik di cui lui appunto denuncia l'aggressione l'assalto eccetera da lì inizieranno tutti gli eventi che porteranno a sfidare il diavolo il flagello piratesco Moloch Malik che sia di questo film degli anni 60 non so cosa stava succedendo negli anni 60 era riesplosa la The Graaf mania sicuramente la The Graaf mania non so se era riesplosa negli anni 60 di sicuro qualche mania The Graaf ce l'aveva comunque arriviamo a un fatto di rilievo molto importante sia nella storia della pirateria sia nella storia proprio di The Graaf perché nel 1693 c'è un proverbiale incontro tra lui e una gentildonna chiamata Anne che assunse poi il soprannome di Dio Levin cioè Dio lo vuole almeno se l'ho pronunciato bene cosa che dubito fortemente comunque lui è un po' pirata un po' avventuriero vede questa gentildonna e gli fa qualche battodina pesante che ci vuoi fare Danilo sono pirati non è che c'è un gran senso politicamente corretto no comunque Anne la prese bene perché gli rubò la pistola e lo minacciò di ucciderlo se non si fosse scusato puoi immaginare il risultato destro di verbio ovvero i due si sposarono e Anne divenne non solo a moglie di De Graaf ma anche una delle più celebri piratesse della storia della pirateria proprio e sicuramente dei caraibi durante quell'anno la coppia felicemente decise che come luna di miele avrebbe infestato i mari della giamaica provocando parecchi danni all'economia dell'isola la risposta della loro luna di miele fu un ride inglese contro Santo Domingo dove sembra che venne catturata e presa in ostaggio proprio la famiglia di De Graaf a questo punto conoscendo il personaggio tu ti aspetterai una furibonda reazione tipo di salgariana memoria nel senso mai toccato la famiglia a motesfo una cosa del genere certo Salgari magari non era così verace però De Graaf sì comunque noi ci aspettiamo una storia di vendetta personale e invece purtroppo la storia almeno quella reale ci delude perché le tracce di De Graaf si perdono nella notte dei tempi perché non si sa cosa fece lui non si sa dove andò non si sa dove sparì non si sa se morì non si sa come morì cioè se morì spero di sì perché a un certo punto anche gli indomiti pirati diavoli spariscono però le tracce di De Graaf proprio si perdono pare che si fossero perse vicino alla Louisiana dove sembra che lui stesse dando una mano a costruire una colonia francese qui un po' è lo spunto che prende evangelisti per dare un finale a De Graaf nella sua opera di finzione alcuni altri ritengono che lì ci sia anche morto per caso naturali mentre altri ancora ritengono che si ritirò invece in Alabama sempre nel Nord America quindi qualcun altro invece dice anche un po' più romanticamente che fu ucciso in battaglia da una cannonata e che Andy O'Levan la moglie guidò poi la sua flotta al posto del marito altri ancora invece sostengono che sia semplicemente rimasto lì a Santo Domingo dove morì anche attorno al 1704 ma la realtà è che nessuno sa che fine fece De Graaf e visto il personaggio io non sarei neanche troppo stupito se fosse ancora in giro a fare danno da qualche parte e quindi oggi abbiamo parlato di pirati diavoli vi abbiamo regalato una bella atmosfera con anche quel tocco di tamarro che visto il tema ci poteva sicuramente stare e chissà chissà che in realtà noi non sappiamo molto più di quanto diciamo e De Graaf non sia in realtà ora a registrare vicino a noi ma col microfono spento e solo qui a sorridere in maniera mefistofelica guardandoci parlare al microfono chissà chissà intanto ci vediamo ah aspettate la prossima settimana noi siamo in live è vero caro Flavio siamo in live per festeggiare l'anniversario di Radio Pirata 18 aprile faremo una live con i nostri bei visi pirateschi e ci mostreremo al pubblico quindi preparatevi perché vi vogliamo belli attivi soprattutto preparatevi per i visi pirateschi perché non promette e lo dico perché l'ho già anticipato altrove parleremo della serie Netflix il mondo segreto dei pirati come si chiama una cosa del genere e ne parleremo bene e male tirando fuori un po' quello che ne pensiamo noi di quella serie lì e tutte le varie riflessioni sulla storia sulla parte fiction della serie eccetera eccetera insomma sarà molto interessante quindi alla prossima